ultima casa di poeta 1975 non serve pensare ai dettagli della pianta all'articolazione degli spazi dell'ultima casa di poeta basti ricordare anche se non fa alcuna differenza che il lotto e il 105 e che le piante sono fascicolate in scala 1 a 1000 e contrassegnate con francobollo da 50 lire previsto dal catasto non serve descrivere il movimento tra le stanze sono tante sono troppe nove locali almeno più giardino perché la donna è una sola minuscola tra i muri e si sposta poco quasi niente basterebbe lo spazio che unisce il soggiorno la sala e la cucina più la camera da letto dall'altra parte della casa e naturalmente il bagno in realtà è più che sufficiente la sala col divano dove ora è seduta su una sedia madre di poeta si pensi in contemporanea alla porzione minima di spazio umanizzato la casa e insieme allo sproposito del contesto metropolitano di più ancora si pensi alla stanza e insieme alla nazione da un lato dunque pavimenti muratura infissi materiali da arredo e costruzione il tappeto la televisione sedie e tavoli dall'altro palazzine asfalto rabberciato raccordi autostradali pompe di benzina viali alberati anziani in giro con i cani spaccio donne ben vestite decoro di quartiere immondizia che tracima nel fine settimana roma più in generale il cupolone le terrazze le puttane sulla strada per il mare allargando la visuale l'italia da venezia al mediterraneo si pensi adesso al boato all'esplosione di parole con cui si annuncia al mondo la morte di poeta si pensi al suo corpo massacrato che si deposita come cenere di lava dentro tutte le case sui balconi sulla testa di chi cammina per la strada si pensi alla morte di poeta depositarsi sopra il cupolone sulle lenti degli occhiali dentro i boccaporti delle navi negli asili sulle scarpe dei bambini sulle unghie laccate delle madri sul vetro degli orologi fuori le stazioni sulle corsie degli ospedali sulla mole antonelliana nello stretto di messina si pensi ai giornali e alle televisioni il dolore e la ripetizione il chiacchiericcio il volto sfigurato il lenzuolo sopra il corpo l'indecenza delle scarpe non coperte dopo averlo pensato lo si moltiplichi per cento e mille fino alla soglia del conato al tanto e al troppo di immagini e parole ora si ritorni al soggiorno seduta su una sedia c'è una donna minuscola una mamma se si alzi e vada in giro per la casa o stia seduta non importa ma il televisore è spento non c'è traccia di giornali il cavo della televisione è staccato dalla presa è attaccato nel resto delle case della nazione apre finestre luminose nelle camere da letto e nei salotti si pensi a quel gesto estrarre un cavo elettrico dalla parete come a un atto estremo già votato al fallimento di protezione da parte degli amici si pensi al peso sulle tempie di quel silenzio alla pressione a cosa determina negli occhi il non sapere al fragore sordo della non detonazione del pensiero a ciò che è falso e a ciò che è vero nel cervello si pensi al niente di un figlio ancora vivo ma già morto per il mondo intero